Grazie a tutti. Quando ce l'ha vivo, ce l'ha quasi nessuno. Ma poi soprattutto sono i giornali che mi hanno avvisato. Adesso, quanto meno. Grazie. Noi rappresentiamo i piloti preoccupati, le centinaia di colleghi che ci chiamano spaventanti rispetto alle notizie che sentono sistematicamente in televisione e che leggono sui giornali. Non tutti i piloti sono degli estremisti o transisti, non tutti i piloti vogliono mettere sull'astrico 60.000 famiglie. Io non posso rischiare il mio posto di lavoro per assicurare il potere a pochi personaggi appartenenti a determinate associazioni professionali. Io difenderò il mio posto di lavoro fino alla fine e mi batterò per questo. Grazie. Grazie. Grazie.